Il principio generale dell'utilizzo delle opere dell'ingegno è che non si può fare praticamente nulla salvo quello che è espressamente concesso, per esempio attraverso una licenza di cui abbiamo già parlato. E allora quali sono le possibilità di utilizzo o di riutilizzo delle opere dell'ingegno? Al di là delle licenze, al di là dei casi in cui vengono utilizzate delle licenze libere che consentono appunto di dare facoltà, dare diritti e non limitare l'utilizzo, abbiamo una serie di eccezioni e limitazioni previste dalla legge sul diritto d'autore che sono molto limitate. In particolare vi è l'eccezione della possibilità di utilizzare parti e brani di opera per finalità di critica o di discussione, quindi la possibilità che cerca di contemperare, questo diritto che cerca di contemperare la libertà di espressione con la tutela di diritti di utilizzazione patrimoniale consente la citazione per fine appunto di critica e discussione delle opere ma senza ovviamente danneggiare gli interessi commerciali del titolare dei diritti di utilizzazione patrimoniale. Vi è poi la possibilità teorica di utilizzare gli articoli di giornale che possono essere riprodotti ma solo laddove la riproducibilità non sia espressamente esclusa e in realtà questo accade quasi sempre. Vi è poi la possibilità regolamentata di effettuare delle rassegne stampa ma negli stretti limiti costruiti sia dalla legge sul diritto d'autore che dalla convenzione di Berna. Quindi quando si vuole riutilizzare un contenuto altrui bisogna andare a controllare se si rientra nelle ipotesi delle libere utilizzazioni o meglio delle eccezioni e limitazioni e laddove non si rientri occorre necessariamente negoziare i diritti con l'interessato. Parlando di negoziazioni chiudiamo con un cenno alle società di gestione collettiva dei diritti, alle cosiddette collecting societies. In Italia avevamo il monopolio della società italiana degli autori ed editori la CIAE che ha ancora un ruolo fondamentale nell'ambito della gestione dei diritti e che risolve il problema, nasce per risolvere il problema appunto di dover negoziare i diritti con centinaia, migliaia di autori e questo è un problema chiaramente irrisolvibile se non vi è un soggetto che assomma in sé il potere di negoziare e di remunerare gli autori. Questo monopolio della CIAE non è ovviamente più tale e vi possono essere una serie di società di gestione collettiva dei diritti, anche forza di una serie di direttive della Unione Europea e quindi il soggetto, l'autore o l'editore può scegliere la propria società di gestione collettiva dei diritti che si occuperà di negoziare i diritti per conto dei singoli autori. Anche in questo caso dobbiamo tenere presente la pluralità di diritti oltre al diritto d'autore propriamente detto e quindi dobbiamo tenere presente di dover negoziare o quindi tenere presente anche le società di gestione collettiva degli interpreti e degli esecutori perché laddove banalmente io voglia mettere una musica di sottofondo nello studio dentistico o nell'ente pubblico dovrò non solo preoccuparmi della gestione dei diritti degli autori ma dovrò preoccuparmi anche della gestione parallela dei diritti degli interpreti e degli esecutori oppure potrò anche scegliere delle opere rilasciate con una licenza libera per esempio in Creative Commons oppure delle opere per cui i diritti sono ospirati e quindi non è ispirato non solo il diritto d'autore, quindi sono dei corsi 70 anni dalla morte dell'autore ma è ispirato anche il diritto dell'interprete e dell'esecutore.